Non pescare un'altra scusa! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci Xyuderone! Daieee! Weee! Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono Xyuder e ragazzi tante novità proprio nelle ultimissime ore di Fortnite, anzi negli ultimi minuti. Perché? Perché è iniziato l'evento oro ragazzi, l'evento che ci accompagnerà in questa fine season per arrivare insomma alla season 2. Qualcosa vi avevo già fatto vedere ma questa volta siamo proprio noi in game. E come si fa a capire che è iniziato l'evento oro? È semplicissimo. Come vedete siamo nella casa centrale dove c'è l'isolotto appunto al centro della mappa e se andiamo ad esplorare, attenzione, attenzione, sbadabam! Abbiamo finalmente i primi oggetti che si stanno colorando d'oro. Tanta tanta roba ragazzi per questo inizio evento. Se passiamo nel bagno c'è anche il water che vi avevo già fatto vedere essere dorato e la cosa importante è proprio questo block notice sopra il WC. Se guardate bene ragazzi sul block notice c'è un logo e sarà lo stesso identico logo che troveremo nell'outfit della skin leggendaria oro, il teschio appunto del metallo più prezioso. Insomma ragazzi, primo giorno di questo evento. 5 giorni mancanti alla season 2 probabilmente molte altre cose diventeranno appunto tutte completamente d'oro. Staremo a vedere che cosa succederà in questo nuovo capitolo di Fortnite. Io sarò ovviamente in live. Mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi al canale, anzi ai canali. Questo è quello della piattaforma viola. Noi ci vediamo domani mattina alle 8 in live. Ciao! 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 Ciao!